Milano carissima per gli studenti. Gli affitti per gli universitari fuori sede sono impicchiata. Per una camera singola si arriva a pagare oltre 550 euro al mese e solo poco meno per un posto letto, il 7% in più dello scorso anno. A denunciare questa realtà sono i sindacati. La situazione risulta ancora più grave per coloro che godono di una borsa di studio e potrebbero quindi alloggiare nelle residenze a prezzi agevolati. Non c'è più posto. Alla Bicocca, per esempio, sono state presentate 528 richieste per 187 posti. Non è molto diversa la realtà del Politecnico. Qui ci sono a disposizione più di 1.000 alloggi a tariffa agevolata, ma centinaia di studenti sono rimasti fuori dalle graduatorie. I posti sono 670 e gli idoni 1.338, anche se gli atenei milanesi stanno costruendo e recuperando spazi. Sul fronte Bicocca sono ancora in costruzione alcune residenze, ma i lavori termineranno il prossimo anno. 700 posti sono già disponibili, ma il piano ne prevede 1.500, tra cui quelli del Polo Biomedico di Monza. Si attendono i dati della statale, che ha a disposizione 750 posti, ma ne mette a bando solo 530 e il resto a tariffa di foresteria. I sindacati chiedono che la tenei riservi le residenze agli studenti con un reddito basso, per agevolarli. Per quanto riguarda il mercato privato, la richiesta è quella di un canone concordato, che garantisca sgravi ai proprietari e quindi minori costi per gli studenti. Il Comune potrebbe poi ridurre tasi e tari. Il tempo stringe il timore degli studenti e che senza un tetto sopra la testa saranno molti coloro che dovranno rinunciare a studiare in uno dei prestigiosi atenei milanesi. Grazie.